Ancona 28 settembre, a tre giorni dalla chiamata alle urne che ha sancito Fratelli d'Italia, primo partito del Paese, il coordinamento regionale del partito di Giorgia Meloni si è ritrovato oggi per analizzare i risultati di questa vittoria. Ricordiamo una vittoria con il 29% di consenso nella regione Marche contro il 26% a livello nazionale, analisi della vittoria, ringraziamento per gli elettori e anche un ribadire il senso di responsabilità e l'occasione unica che ha il partito per governare questo Paese. Oggi erano presenti cinque neoparlamentari eletti di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi e Guido Castelli al Senato, Lucia Albano, Antonio Baldelli e Stefano Benvenuti Gostoli alla Camera. Cinque parlamentari di Fratelli d'Italia su 15 eletti nelle Marche, dunque la forza maggiormente rappresentativa della regione ancora più forte perché di fatto i parlamentari marchigiani sono sei con la scolana Arachelle Silvestri che è stata eletta in Abruzzo. Ascoltiamoli a cominciare dalla coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Elena Leonardi. Abbiamo risultato che nella nostra regione ci vede anche sopra la media del risultato nazionale. Siamo sicuramente soddisfatti della fiducia che i marchigiani ci hanno riposto e sapremo sicuramente lavorare per la nostra regione, per le tante partite aperte con la serietà che il momento impone. Il primo impegno è confermare il lavoro che in questi anni ho portato avanti all'interno del ruolo, all'interno della Camera e della Commissione Finanze alla quale sono stata assegnata. Il primo impegno sarà quello di sicuramente rimettere le Marche al centro dell'agenda Italia, quindi il centro Italia, questione centrale per la nostra nazione. Personalmente per carattere la soddisfazione viene un po' offuscata dal grande senso di responsabilità perché chiaramente andare in Parlamento in questa fase della storia dell'Italia con il governo che verosimilmente sarà affidato al nostro partito è una grande responsabilità. Ci sono enormi problemi da gestire, insomma, quindi ecco, contentezza sì, però il senso di responsabilità e un po' di ansia prevale, dico la verità. Io sono stata eletta nel Regione Abruzzo, che comunque è la Regione Limitro, fa le Marche, quindi problematiche simili, quindi continueremo a lavorare, soprattutto adesso con il governo, con comunque l'aiuto e l'ausilio del Presidente Acquaroli ma anche il Presidente Marsilio per cercare di portare sui nostri territori che hanno problematiche simili, sia infrastrutturali, a livello di terremoto, a livello di crisi economiche e industriali, cercare di portare comunque sia un miglioramento e tutte le risorse utili per cercare di risollevare questi territori che per troppo tempo sono stati comunque sia da pannaggio della sinistra. Per quello che riguarda la provincia di Pesero-Urbino, Fratelli d'Italia avrà la sua rappresentanza nelle Pergolese e Antonio Baldelli eletto alla Camera attraverso il listino plurinominale. Ho cognato uno slogan, quello dal governo delle Marche alle Marche al governo, perché purtroppo la nostra regione è sempre stata una regione cenerentola, fra le regioni italiane, perché? Perché è mancato un'adeguata rappresentanza parlamentare. Chi ricorda che ad esempio le Marche in questa legislatura ha avuto addirittura un sottosegretario allo sviluppo economico? Chi ricorda un'azione importante per la nostra regione di questo sottosegretario? Quindi il compito della nutrita pattuglia di parlamentari di Fratelli d'Italia sarà quello di rappresentare in maniera egregia le Marche al governo. Presenti questa mattina i parlamentari eletti, ma non solo, anche i candidati non eletti, gli esponenti del partito. Un quadro che dipinge il cosiddetto modello Marche, citato anche da Giorgia Meloni, un modello sul quale è stato solleticato anche l'assessore regionale Guido Castelli, che ora approda al Senato lasciando la giunta a Quaroli. E chissà che non possa esserci anche un ministro che arriva dalle Marche. Giorgia Meloni è impegnata in un dossier complesso, articolato, su cui l'attenzione e la speranza degli italiani si va concentrando. Quindi confideremo delle scelte che sarà parte della coalizione. Ma quello che è più importante è che questo voto ha dato una conferma al buon governo anche della regione. Del resto anche da parte dell'opposizione c'era stata un'evidenza molto enfatizzata sul significato di questo voto, rispetto anche al giudizio rispetto al governo a Quaroli. Mi pare che gli esiti facciano pensare che ci sia un'approvazione importante, significativa e senza ombra.